Proseguono i lavori per il corridoio della mobilità EUR-Laurentina-Torpagnotta. Sono state potenziate le corse delle linee di Filibus 60 e 90, confermate intermedie lungo il tragitto da Piazza Venezia e Termini fino al deposito di Torpagnotta. Viene così garantita una maggiore offerta nelle ore mattutine e serali lungo il percorso EUR-Laurentina. Una nuova rotatoria su Via Cassia. I lavori sono iniziati all'altezza della stazione La Giustiniana. L'operazione è realizzata con 441 mila euro. I fondi giubilari miglioreranno l'accesso al nodo ferroviario. I lavori dureranno circa 120 giorni, ma sarà garantito sempre il passaggio del trasporto pubblico e di quello privato. Due nuovi centri antiviolenza a Roma, nel primo municipio e nel terzo. I due centri offriranno consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro figli. Le strutture si aggiungono alle tre già avviate a partire da marzo, nei municipi sesto, settimo e ottavo. Grazie. 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 Grazie.